ragazzi spettacolare addirittura doppio è bellissimo wow è doppio sta iniziando a piovere mamma mia ragazzi buongiorno faccio non è uno short faccio video dai volevo farvelo vedere nei video dei prossimi giorni noi abbiamo dormito qui e sta iniziando a piovere siamo attaccati al mare mare con le onde così tutta la notte guardate che spettacolo guardate wow bene me ne torno me ne torno dentro shark sta iniziando a piovere sarà una roba di qualche minuto sono in pigiama dall'ussino e ci vediamo con i prossimi video oggi domenica stasera alle 20.45 esce un video che ho fatto qualche giorno fa c'è il sole probabilmente mi si vede che ho fatto qualche giorno fa di un piccolo danno che è successo e lo saprete questa sera wow e con questa vi faccio vedere ancora il tram l'arcobaleno e ci vediamo